Sono in questo modo perché desidero farvi capire una piccola differenza, quella che passa tra l'energia nella massa e l'energia della massa. Non si tratta della stessa cosa. Infatti, la Relatività Generale di Einstein ha appurato l'energia della massa, ma l'energia della massa non è tutta l'energia che è nella massa. Infatti, io sono il contenuto di questa strana conformazione assunta dalla mia testa. Perché sono tutto quanto è insito in me. Mentre invece, quando io apro questo e vi confermo la presenza del mio volto, bene, questa è l'immagine di me. Potrebbe sembrare una differenza che non esiste. E invece è proprio quella che passa tra la forza e l'energia. La forza si esprime su una sola linea di azione. L'energia, invece, è un qualcosa che normalmente dovrebbe riferirsi a ogni possibile verso, ossia alle sei componenti di segno diverso parti del sistema tridimensionale dello spazio. Le due velocità in questo verso, le due in questo, le due in questo. Non è quello che accade oggi nel calcolo della relatività generale di Einstein. Infatti, la relatività generale di Einstein vi conta in modo perfetto tutta l'energia della massa, ossia che non dissolve la massa unitaria che poi si muove. Non la dissolve in quella della sua sezione del piano trasversale che poi è interessata da due velocità assolute, quella elettrica in questo verso e quella magnetica nel verso opposto. Quando la sezione è movimentata simultaneamente per le due velocità, la elettrica C e la magnetica C, che sono due velocità assolutamente uguali tra di loro, perché il magnetismo è alla base dell'elettricità che è la reazione al magnetismo. Lo vediamo per come è prodotta la corrente elettrica. Si fa ruotare un campo magnetico in un verso e in un anello chiuso accade la velocità elettrica nel senso inverso. Bene, quando noi interessiamo la stessa sezione di una massa a movimentarsi teoricamente in assoluto nei due versi, allora noi conserviamo intatta l'unità della sezione, tanto che possiamo dire che abbiamo ancora una massa che conserva la sua sezione di traslazione simultanea, di esplosione strana, perché è un'esplosione che accade solo in due versi e non nei sei che possono annichilire interamente l'ammassamento attraverso la sua esplosione. Bene, quando invece noi vogliamo conoscere tutta l'energia che esiste nella massa, la possiamo avere solo quando non conserviamo alcunché della massa, perché la espandiamo tutta e in tutti e sei i versi centrifughi. Questa differenza che vi potrebbe sembrare irrilevante è invece della massima importanza, perché io amo Deo, quando vi affermo che dalla formula di Einstein non deriva tutta l'energia insita nella massa, io non obietto che quella di Einstein non sia tutta l'energia della massa, ma quella che è compresa nella massa che si dissolva completamente anche nella sua sezione trasversale. Infatti noi abbiamo lo schema reale di traslazione nello spazio-tempo attraverso una divisione del volume in due enti. Uno è quello della sezione del flusso. L'altro termine è quello del reale flusso di quella sezione. Quando quella sezione si muove alla velocità c massima sia in questo verso sia in quest'altro, allora abbiamo che nei due versi non esiste più la forma di una massa conservativa che trarli da una parte sola, ma una che stranamente esploda solo nei due versi in modo simultaneo. Conserviamo inalterata la sezione. Abbiamo un altro modo per poter togliere di mezzo la sezione. Quando essa, avendo assunto il valore unitario, veramente unitario, allora tutto il flusso reale non è più flusso di altro che di tempo. Lo spazio-tempo, quando altera il suo spazio nel tempo, in un modo tale che lo riferisce proprio all'unità dello spazio, che sia uno per uno, allora tutto quel quantitativo che è espanso, simultaneamente appartenente ad una sezione, può essere lanciato tutto nel flusso fino a togliere di mezzo per unificazione, per unificazione, lo spazio della sezione ed avere unicamente tempo. Il tempo che avanza, infatti, in maniera unitaria, consiste nell'avanzamento dello spazio unitario. è quello che mi porta a considerare perfino quella fine del tempo del 21-12-2012, quando io lo riferisco ad un piano, il cui lato sia 44,85668513. Quando l'ammassamento della presenza riguarda tutto questo contenuto pari al lato, 44,85668513, allora il quantitativo espresso in puro numero è 2012,1222. anno, 2012, mese 12 e fine del giorno 21, espresso dall'inizio del giorno 22, come un contenuto tutto presente in cui il tempo non esista e sia tutto e solo spazio. Ebbene, questo quantitativo può essere tutto e solo spazio se è contenuto nella sezione, oppure può divenire tutto e solo tempo, se la sezione si riduce da quella di un lato che è 44, eccetera, eccetera, alla sezione di 1 per 1. Allora a questo punto il risultato che si ha, ossia 2012,1222, è proprio il tempo che fissa lo scandire suo in date e si tratta di una data del 2012. In questo modo noi abbiamo tolto di mezzo tutto quanto lo spazio. Intanto come abbiamo fatto? Devo spiegarvelo perché altrimenti il mio calcolo sembra poggiato su qualcosa che io poi non spiego. Devo spiegare che cosa è questo lato 44,85668513. È un lato composto dal ciclo 1 e trino di 10 unità. 10 unità è una quantificazione relativa all'unità. È la stessa cosa che vi sto dicendo in relazione all'energia. Un caso è l'energia di 1 e allora quell'1 si toglie di mezzo perché diventa il parametro che misura l'energia attraverso una massa, ma se lo togliamo di mezzo come riferimento unitario e lo riconduciamo a una globalità, allora il ciclo di 10 unità diventano in totale 11 unità. Ma queste 11 unità si devono esprimere in modo unitario nel tempo e trinitario nello spazio. Quindi si devono esprimere come 11 più 33 e diventano 44. Quindi quando io ho posto il lato unitario di 44, l'ho posto come la presenza totale del del ciclo, 10 unità nella dimensione 4, di cui 1 è la dimensione del tempo e 3 sono le dimensioni dello spazio. Quindi 44 unità considera proprio tutte le unità del ciclo, nelle 44 totali riferibili allo spazio-tempo, nell'unità dello spazio-tempo. Ma così facendo dobbiamo esprimere anche la dimensione strutturale di questa unità. Perché una unità, quando assume il numero 44, non è una unità, è un valore assoluto che noi abbiamo calcolato 44 sulla base di una quantità inversa che sarebbe 44 elevato a meno 1, ossia sarebbe un 44esimo. la vera unità di 44 è data da un 44esimo. Oppure dall'aggiunta totale del suo tempo, proprio espresso in termini decimali, perché ci stiamo riferendo al ciclo 10. Quindi se noi aggiungiamo al 44, anche il quantitativo del tempo, espresso in funzione decimale, quindi come bilanciatore del 44, noi abbiamo veramente una unità rappresentata da un numero che apparentemente non è unitario. si presenta come numero decimale, ma è riconducibile all'unità. Noi che cosa dobbiamo cercare? L'unità del tempo. Bene, abbiamo visto che 44 è l'unità dello spazio-tempo. Come possiamo fare per togliere di mezzo lo spazio da questo tempo? Intanto dobbiamo considerarlo in tutto il suo complesso. Il suo complesso è dato da più 44 meno 44 uguale 0. Ma sapete benissimo che se noi abbiamo più 44 e meno 44, noi possiamo considerarlo in termini di grandezza a partire dal valore negativo, quindi a partire da meno 44. In questo caso quello 0 dato dalla somma tra più 44 e meno 44 diventa un più 88 sulla base di un meno 88. Ma ancora una volta noi possiamo togliere di mezzo tra questo complesso di meno 88 e più 88 semplicemente lo spazio. Dobbiamo poterlo togliere però di mezzo in tutti i suoi modi sommari con i quali esso si presenta. Quindi da più 88 noi dobbiamo togliere innanzitutto lo spazio generale nelle sue tre dimensioni. Tanto che quando da 88, che è tutto lo spazio-tempo, noi abbiamo una prima sottrazione del 3 e ci riconduciamo a 85, abbiamo virtualmente tolto di mezzo dallo spazio-tempo globale 88 il suo contenuto più 3 di spazio e ci siamo ridotti ad 85. Bene, questi 85 devono riferirsi ai centesimi. Perché 88 è riferito a 100? 88 è dato da 100-12, ossia togliendo i due modi 6 più 6 dell'espansione in 6 componenti e della compressione in 6 componenti dello spazio. Quando noi al contenuto totale 100 togliamo di mezzo 12, in sostanza togliamo di mezzo i 6 avanzamenti centrifugi dello spazio e i 6 ammassamenti centripeti della massa. Così facendo rimane un 88 che è un numero puro, una pura quantità. E il calcolo a questo punto lo facciamo messo in relazione alle pure quantità, tanto che quando a 88 togliamo la pura quantità 3 dello spazio, abbiamo il sommario quantitativo di 85 che è rappresentativo del puro tempo, perché abbiamo tolto di mezzo lo spazio unitario. Bene, dopo di aver fatto questo, dobbiamo togliere il secondo modo con cui lo spazio si può articolare. Esso esiste quando lo spazio va da meno 11 fino a più 11 ed è 22. Quindi togliendo a 88 ora questo secondo modo di rappresentare lo spazio per cicli dell'unità, non più per unità, togliendo un'unità ne abbiamo tolto di 3. Togliendolo in cicli di 10 unità dobbiamo togliere quanto va da meno 11 fino a più 11, dobbiamo togliere 22. E quindi ci rimane da 88 meno 22 uguale 66 il puro tempo, perché abbiamo tolto in secondo ordine, quello legato al ciclo, il quantitativo dello spazio. Con 85 e 66 abbiamo le quattro dimensioni reali, alle quali devono corrispondere poi quattro dimensioni immaginarie, perché la nostra realtà ha otto dimensioni, ne comprende quattro di un tipo e quattro del tipo opposto. Quindi dobbiamo considerare un secondo tempo in quattro quarti dopo questo primo, in questo secondo tempo. Il primo tempo è nuovamente generale come il primo, quindi da 88 dobbiamo togliere ancora 3 e ci risulta quindi nuovamente 85. Ma l'ultima parte deve considerare la quantità 100 da cui siamo partiti per ottenere 88 attraverso il calcolo di 100 meno le 6 componenti dello spazio, che sarebbe il numero ex di Avogadro, il 6 è rotti per Avogadro, invece il 6 di Amodeo, il 6 centrifugo e il 6 centripeto 12, 100 meno 12 fa 88 e quindi abbiamo ridotto il tutto a un puro numero e adesso a questo puro numero dobbiamo togliere la quantità assolutamente la quantità assoluta dello spazio. E come si fa? Ma se le dimensioni sono quattro, una è di tempo e tre sono di spazio, per avere la quantità unitaria di questo quartetto bisogna dividere 100 per 4, il che ci dà 25. Poi considerando che le quantità legate allo spazio sono 3, dobbiamo moltiplicare 25 per 3 e otteniamo 75. Ecco il valore che dobbiamo sottrarre a 88, per cui 88 meno 75 determina il 13 come tutto il tempo. Quindi quando noi andiamo ad aggiungere al 44 intero questa quantità decimale in cui noi abbiamo tolto di mezzo tutto lo spazio, noi abbiamo creato un contraltare tra la quantità intera 44 e la quantità decimale che rappresenta in un modo diverso quello che potremmo rappresentare semplicemente attraverso 44 e 44esimi, solo che i 44esimi li abbiamo virtualmente espressi come la quantità addizionale della struttura del tempo. Struttura ordinata a seconda delle dimensioni, dei centesimi, dei centomillesimi, dei milionesimi. Ecco in questo modo quando noi abbiamo un lato che è 44,85,66,85,13 esso è unitario. Ho spiegato perché. E allora a questo lato così virtualmente unitario, quando diventa un'area, poiché è unitario sia in un lato sia nell'altro, il prodotto determina l'unità. Nel suo essere al quadrato è solo come un quantitativo di tempo o di spazio che è tutto contenuto in questa superficie a tempo zero, ma che invece può essere lanciato tutto in un verso quando è riferito come tempo, e noi al cacolo l'abbiamo fatto proprio in relazione al tempo, avendo tolto di mezzo lo spazio. Come facciamo a toglierlo di mezzo? Semplicemente riducendo la sezione trasversale a uno. Ecco io vi ho dimostrato che come si può calcolare la quantità totale del tempo, riferita certo a un puro zero iniziale che deve essere avvalorato da questioni che per l'uomo possono essere divine come quello dell'anno della presenza del figlio di Dio sulla terra. Quindi un riferimento autoritario, autorevole. Quando noi dovessimo avere questo riferimento autoritario e autorevole potremmo sulla sua base calcolare la fine del tempo e quindi la fine del tempo poggiato sull'autorità dell'avvento nel mondo del figlio di Dio porta veramente alla fine del giorno 21 del dicembre 2012. Ma tutta l'energia che nello stesso modo appartiene alla massa che si muove unitariamente non è tutta l'energia fino a quando noi conserviamo la presenza unitaria della massa. Se noi questa massa non la togliamo di mezzo proprio, trasformandola nell'energia anche nella sua unità, noi non abbiamo mai il contenuto totale dell'energia presente nella massa, ma siamo solo all'energia di questa massa uno. Ma potremmo averla tutta quanta se noi avessimo la sezione della massa che è proprio uno. Se la sezione della massa fosse proprio uno, non quell'uno virtuale che noi dovessimo dire perché dipende da noi l'uno. L'uno è qualsiasi cosa. Non è così. Nella nostra natura esiste veramente un uno. È quel valore che realmente espresso in termini di quadrato, in termini di n, rimane sempre uno. E questo non è il frutto di una nostra convenzione, è il frutto di una realtà a sé stante, perché è il modulo unitario con il quale è creata l'esistenza. Solo se la sezione è veramente uno, allora tutta la massa lanciata in un verso solo, alla velocità c2, è sostanzialmente inesistente più nella sezione spaziale della massa perché l'abbiamo ridotta a 1. Accade come quando facciamo i calcoli dimensionali, tanto che n elevato a 4 diviso n elevato a 3 è n elevato a 4 meno 3, è n elevato a 1, mentre invece n diviso n a livello di dimensione è 0 perché n è n elevato a 1, diviso n che è n elevato a 1, poiché la sottrazione tra 1 e 1 è 0 il calcolo dimensionale di n diviso n è 0. Ecco, in questo modo dobbiamo operare noi se avessimo veramente la massa unitaria lanciata alla velocità c2 avremmo veramente quanto conserva il numero vi dimostro perché. Prendiamo un cubo, un metro cubo, sapete benissimo che è composto di mille decimetri cubi se noi questo metro cubo lo abbiamo accorpato proprio come un metro cubo la velocità di flusso, immaginato che esso esista in un secondo è tale che il metro percorso da questo metro cubo in un verso è pari ai 10 decimetri quindi la presenza di quel metro cubo è data dal suo metro ma se lo disaggreghiamo senza modificare il volume in tutti e mille i suoi decimetri cubi e li mettiamo in sequenza tanto che la sezione adesso sia quella unitaria dell'unità della massa allora tutta questa massa si sviluppa in una linea per un valore mille solo in questo caso noi abbiamo che il numero mille che rappresenta i mille decimetri cubi parti di un metro cubo sono rispettati nel loro numero perché il volume mille si divide per il volume per la sezione uno e poiché mille diviso uno da mille in questo caso abbiamo mille solo nella linea del flusso ma se ci sbagliassimo e invece di dividere quel volume mille per uno noi lo dividiamo per qualcosa che è di più di uno non possiamo avere mille è evidente perché mille diviso uno virgola rotti non può determinare come risultato mille mille si risulta solo se noi dividiamo mille per uno dividere mille per uno significa considerare una sezione irreale voi mi dite perché? perché ogni sezione sezione se è reale contiene spazio e contiene tempo se noi vogliamo lanciare nel tempo tutta quanta la massa dobbiamo togliere il tempo dalla sezione dobbiamo avere una sezione virtuale irreale perché tutte le nostre sezioni reali contengono tutto il tempo tutte quante è un tempo di espansione di quella sezione il tempo è servito per aumentare quella sezione uno a uno in modo che sia maggiore solo una sezione irreale non ha un tempo in sé ecco quindi quando noi andiamo a calcolare una velocità anche della luce nella realtà noi dobbiamo essere sicuri che non considereremo mai la presenza della sezione elettromagnetica che fluisce in modo elettrico che sia unitaria perché è sempre il prodotto tra due inversi assimilabili allo spazio e al tempo tanto che il prodotto ha due dimensioni dire che la sezione ha due dimensioni significa dire che ha spazio e che ha tempo quindi è intuitivo che noi non si possa avere mai nulla di assoluto quando lo andiamo a misurare nel campo reale perché ogni misurazione reale che noi facciamo è ottenuta attraverso una unità reale che è considerata reale come strumento unitario di misura ed è tolto di mezzo tanto che il ciclo 10 ciclo assoluto noi lo possiamo misurare realmente in due modi opposti o enucleiamo una dimensione tra le dieci tanto che con un decimo noi possiamo conteggiare i nove altri decimi e quindi abbiamo il valore nove in unità oppure possiamo eseguire la stessa cosa non nel tempo bloccato ma nel tempo rilanciato ossia dieci più uno i due aspetti dieci meno uno e dieci più uno sono rappresentativi in termini di comportamento opposto ma della stessa unicità nove unità e dieci unità sono i due modi uguali e contrari di rappresentare il ciclo 10 che essendo assoluto può essere misurato in modo unitario solo attraverso questi due modi contrapposti di nove unità oppure undici unità applicando l'insieme abbiamo il valore medio del dieci ciclo assoluto ebbene quando noi consideriamo dunque che avendo una sezione reale noi abbiamo una quantità reale a dimensione due e quindi non solo a dimensione dello spazio unitario lineare ma di due linee e già due linee sono un'area che implica una contrapposizione che noi esprimiamo con una perpendicolarità ma il modo perpendicolare è proprio una contrapposizione di una linea e una linea che gli si pianta per traverso quella contrapposizione reale che consente a una palla di biliardo lanciata contro una sponda in modo perpendicolare il capovolgimento esatto della dinamica tanto che la palla di biliardo ripercorra esattamente lo stesso percorso di prima ritornando indietro avendo capovolto il suo avanzamento nello spazio ecco quindi se noi non siamo in grado di ricorrere alla velocità della luce per calcolare la quantità assoluta è proprio perché la stessa velocità della luce considerando unitario quello che non è perché è spazio-tempo presente in realtà è la realtà elettromagnetica che possiede la luce nel suo flusso elettrico o magnetico quando noi consideriamo questo elemento ci rendiamo conto che usando la velocità della luce per ottenere la quantità di energia noi otteniamo la quantità di energia di una massa reale che è conservata nella sua quantità unitaria di energia che vale solo come massa unitaria c'è una massa unitaria che è solo massa e il resto c'è c2 che è tutta la sua energia e noi abbiamo tutta l'energia di una massa cioè abbiamo un prodotto mc2 che non ha la capacità di togliere di mezzo attraverso una perfetta combinazione l'ammassamento e l'espansione abbiamo sempre in atto il fenomeno reale di una massa reale conservativa che si muove ma quando io vi dico tutta l'energia nella massa deve considerare anche l'energia unitaria che è nella massa e quindi bisogna considerare il riferimento anche dell'energia esplosiva del piano elettromagnetico che risulta unitariamente ammassato ma che esso pure deve espandersi nelle quattro dimensioni quando noi facciamo una cosa del genere la possiamo fare in due modi diversi ma uno dei due sta nel considerare veramente unitario il piano della sezione elettromagnetica e quando è unitario quando lo stesso volume come abbiamo fatto il caso che vi ho rappresentato del metro cubo è tutto quanto lanciato in un verso conservando il suo numero perché è la conservazione del numero che ci fa capire che è in atto veramente una divisione in spazio tutto e tempo tutto spazio tutto e flusso nel tempo tutto solo in questo caso e per farlo è sufficiente riferirci a quanto ci risulta in termini reali dalla misurazione reale perché quando noi riferiamo la velocità della luce e vediamo che si approssima a 3 perché 2,99 rotti quello che manca al 3 è proprio dovuto alla presenza unitaria anche del tempo in relazione al contenuto complessivo 3 quello che manca al 3 è il tempo aggiunto alla sezione unitaria perché altrimenti il 3 sarebbe lanciato tutto e 3 in un solo verso invece non è lanciato tutto quanto in un solo verso ma solo per 2 2,99 perché non abbiamo diviso il 3 per 1 ma per un valore superiore a 1 e a questo punto il calcolo è facile e si arriva a capire in un modo veramente stupefacente qual è il meccanismo che lega assieme la nostra percezione con le funzioni ideali e perfette della nostra mente che considerando le masse senza quei calcoli che noi facciamo ma semplicemente per la botta che danno usando realmente una sorta di bilancia e la bilancia ha un potere sopraffino se noi mettiamo su una bilancia una mela una pera della sabbia tac in una botta sola misura il peso di tutto ha la capacità di sommare anche ciò che non è uguale perché noi non possiamo sommare una mela con la pera però la massa di una mela con la massa della pera si e la bilancia lo fa immediatamente così noi ci regoliamo con la nostra mente con una sorta di massa ideale che considera per massa il contenuto numerico è il contenuto numerico che consente tutti i calcoli possibili e immaginabili perché considerano le volte dei cicli il ciclo dieci quando è nato due volte si presenta come dieci al quadrato ma se noi vediamo in modo inverso uguale e contrario alla potenza dieci elevato a due ossia attuiamo il logaritmo di dieci elevato a due e scendiamo immediatamente al due abbiamo calcolato in base al numero delle volte che il dieci entra in azione con se stesso per cui tutti i numeri che noi abbiamo nella nostra realtà sono tutti numeri che indicano quante volte in maniera secca la base dieci entra in azione con se stessa ma è vista nel modo inverso alla potenza di questo gesto che toglie di mezzo la potenza attraverso il nostro calcolo logaritmico decimale che riduce l'indice della potenza ossia il numero delle volte in cui la base dieci entra in azione a un puro numero ecco il puro numero è proprio l'indice di questo di quante volte la base dieci entra in azione con se stesso e quindi è alla origine stessa di tutti i nostri calcoli proprio quel numero che non a caso ha come prime quattro lettere la parola nome che indica Dio e non a caso quando poi noi andiamo a chiamare Chi Ro Gesù Cristo Chi che è dieci romano e Ro forma il numero dieci che è un dio ed è veramente il dio dieci che regola tutto il nostro sistema spero di avervi fatto capire con una forse eccessiva lunghezza ma se non procedo in questo modo complesso lento ma badate bene non farraginoso se procedo così io posso farvi capire la differenza che passa tra un ente tutto compreso in se stesso e la differenza di questo ente quando conserva il suo volto e sulla base del suo volto poi opera ecco considerate quindi questa differenza fondamentale che esiste tra la considerazione generale di romano modeo ossia mia che vi dice che tutta l'energia presente nella massa è esattamente nove volte la massa perché perché noi in maniera reale operando sempre nel ciclo dieci avendo sempre la necessità di un riferimento unitario quando lo configuriamo unitario nel ciclo dieci abbiamo che uno si sposta totalmente di nove volte questa è la cosa semplice 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 che porta a tutto il dinamismo di una massa veramente unitaria che non può che essere nove essendo il dieci posto alla base di ogni cosa come ciclo ma anche nella fisica questa posizione questa determinazione è stata rassunta dall'accademia francese quando decise di ricondurre ogni ciclo dinamico di ogni unità della fisica al ciclo dieci quindi da quel momento in poi la quantità assoluta che è stata posta in fisica è stata la quantità dieci se noi all'interno di questo dieci vogliamo dividere concettualmente una massa e tutto il suo ideale spostamento però espresso in energia abbiamo che il dieci si è ammassato interamente in uno e ha lasciato lo spazio vuoto di massa come nove ebbene questi sono i due valori complementari se il dieci si ammassa interamente si ammassa in un decimo se questo decimo si espande totalmente si deve espandere per nove volte tanto da diventare il ciclo assoluto dieci quando la massa uno è divenuta attraverso i nove spostamenti il ciclo assoluto dieci è diventata energia pura assolutamente pura perché ha assunto quel valore assoluto dieci pari al ciclo ideale che è assoluto perché è stato posto idealmente per ogni unità della fisica quindi io vorrei che fosse assodato quello che manca oggi alla fisica che non è unificata è proprio quello che io vi sto dicendo non è unificata perché oggi si conserva ancora la presenza della massa che poi si muove e rimane massa non è calcolata tutta l'energia insita nella massa è tale che quando tutta l'energia nella massa si affermi non esiste più la massa ma è rimasta solo la sua energia ossia la sua capacità potenziale di produrre lavoro quando le sia dato il tempo per muoversi e allora poiché la massa entra in atto nel tempo si presenta realmente come una massa reale che si muove realmente nel tempo perché abbiamo ripristinato nuovamente le condizioni di una realtà generale che noi vediamo presente in atto nello spazio e nel tempo e non semplicemente aggregata in una sola componente in cui non esiste alcunché perché tutto esiste solo come una pura potenza della potenza spero di essermi spiegato di essermi